ciao e benvenuti in un nuovo episodio del podcast di italiano bello oggi voglio parlare un po' di me voglio rispondere infatti a due domande che mi avete fatto e rispondo a queste due domande nello stesso episodio perché sono due domande in qualche modo collegate tra loro cioè c'è un collegamento c'è qualcosa di simile nella risposta che darò a queste domande sono due domande un po' più personali cioè un po' più che riguardano me come persona domande personali ma voglio rispondere perché sono interessanti allora la prima domanda è di chia chia mi ha chiesto anzi mi ha scritto vedo che hai cambiato la musica all'inizio del tuo podcast adesso è musica d'opera di cosa canta la donna ti piace l'opera in generale puoi parlare un po' di questo allora sì come avete notato ho cambiato la musica all'inizio del podcast la musica all'inizio si chiama introduzione quindi ho cambiato l'introduzione musicale del podcast perché quella che avevo scelto prima non mi piaceva tantissimo e ora effettivamente ho scelto una brevissima musica d'opera l'opera da cui ho preso quella musica si chiama la traviata di giuseppe verdi giuseppe verdi è uno dei più famosi dei più conosciuti compositori italiani un compositore è un musicista giuseppe verdi fu un compositore italiano non solo di opera anche di musica sinfonica ma soprattutto di opere liriche e ne ha scritte moltissime moltissime e una delle più famose è appunto la traviata vi racconto brevemente di cosa parla la traviata che è l'opera dalla quale ho preso la musica che potete ascoltare all'inizio e alla fine del podcast vi racconto la trama cioè vi racconto di cosa parla la traviata parla d'amore è una storia d'amore che finisce male è una storia d'amore con una finale triste con un finale triste violetta che è la protagonista dell'opera è l'attrice principale la cantante principale abita a parigi è una bellissima donna e durante una festa a parigi conosce alfredo si innamora di alfredo anche alfredo si innamora di violetta e alfredo però abita in campagna non abita a parigi abita in campagna nella natura nei campi violetta ama così tanto alfredo che per amore di alfredo si trasferisce da parigi in campagna quindi due innamorati violetta e alfredo vivono felici in campagna ma un giorno il padre di alfredo chiede a violetta di lasciare alfredo per sempre perché perché a quel tempo non era una cosa considerata buona vivere da soli in campagna con il proprio innamorato senza essere innamorato senza essere sposati questo all'epoca al tempo non piaceva e allora il padre di alfredo un po' arrabbiato chiede a violetta di lasciare alfredo di tornare a parigi perché se violetta e alfredo continuano ad amarsi in questo modo un po' disdicevole un po' che non piace la sorella di alfredo fa fatica a sposarsi il suo matrimonio sarà difficile perché tutti diranno alfredo vive in campagna con violetta allora la famiglia di alfredo non è buona sapete che a quei tempi siamo nel 1800 a quei tempi le cose erano un po' diverse quindi violetta cosa fa ovviamente è tristissima non vuole lasciare alfredo ma alla fine si fa convincere e accetta di lasciare alfredo però non dice ad alfredo la verità non gli dice che suo padre le ha chiesto di lasciarlo e di tornare a parigi scrive ad alfredo una lettera in cui dice che ha nostalgia di parigi cioè vuole tornare a parigi vuole tornare alla sua vita di prima con le feste e gli amici perché la campagna non le piace è troppo noiosa alfredo si arrabbia e raggiunge violetta a parigi cioè va a parigi da violetta e la offende la tratta male si arrabbia violetta però è malata e alla fine dell'opera alfredo che adesso ha saputo la verità cioè ha saputo perché violetta ha lasciato la campagna per tornare a parigi va a chiederle perdono vuole chiederle scusa per essersi arrabbiato ma violetta è malata e allora i due alfredo e violetta si vedono e dopo che alfredo le ha chiesto scusa violetta muore le opere sono molto spesso tristi hanno un finale triste quindi questa è la storia e la parte di musica che ho messo all'inizio del podcast è all'inizio dell'opera all'inizio dell'opera vi avevo detto c'è una festa violetta e alfredo si conoscono per la prima volta e quindi quella musica parla dell'amore che sta nascendo tra violetta e alfredo sono tutti felici in quella festa fanno un brindisi cioè bevono vino e dicono li diamo i lieti calici cioè facciamo un brindisi perché sono tutti contenti e violetta e alfredo iniziano a innamorarsi quindi questa è la risposta così sapete da dove viene la musica e sì per rispondere all'altra parte della domanda mi piace molto l'opera mi piace molto la musica classica non solo la musica classica ma soprattutto la musica classica un po' di tutti i tempi quindi l'opera ma mi piace anche la musica più antica per esempio quella barocca e infatti rispondo alla seconda domanda che mi ha fatto aleandra dalla spagna aleandra mi ha scritto irene ho una domanda per il tuo episodio di italiano bello che cosa avresti fatto se non fossi stata un insegnante che cosa ti piace hai una passione speciale ed ecco la mia risposta quando ero piccola quando ero una bambina volevo diventare una cantante lirica una cantante di opera perché appunto mi è sempre piaciuta l'opera lirica mio papà la ascoltava quando ero piccola e allora volevo fare la cantante lirica la mia opera preferita non è di verdi ma è di puccini giacomo puccini un altro compositore dell'ottocento novecento e la mia opera preferita è la bohème di puccini appunto quindi forse se non avessi fatto l'insegnante avrei fatto la cantante lirica anche adesso studio canto canto in un coro beh ora no perché con il covid non si può più però cantavo in un coro e mi piace molto cantare studio anche canto da sola però non sono diventata una cantante lirica purtroppo ma sono diventata un insegnante quindi sono molto molto grata per questo perché insegnare le lingue è un lavoro che mi piace tantissimo quindi grazie chia grazie aleandra per le vostre domande e voglio sentire da voi conoscete l'opera lirica italiana vi piace qual è la vostra opera preferita voglio sapere quindi scrivetemi a ciao chiocciola italiano bello punto it perché sono proprio curiosa di leggere le vostre risposte grazie a tutti